Naturalmente stiamo verificando se gli ultimi eventi sono dolosi o casuali, la lettura tende, non tocca a me dirlo, avete letto come tutti voi la ricostruzione dei fatti e la vedremo nelle prossime ore, però è un tema che per noi è prioritario, perché quando un paese sta ripartendo sul turismo e più sette che sta facendo Fiumicino bisogna avere anche la forza e il coraggio di dire che non è possibile che accadano le cose che sono accadute in questo periodo e che dovremo fare una verifica da tutti i livelli per individuare responsabilità e eventuali colpevoli laddove fosse doloso.